Pozzetti di scarico talmente stracolpi che provocano la fuoriuscita di liquami all'interno della struttura stessa ma anche all'esterno del canile, creando ampie pozzanghere e aree di ristagno sulla strada, presenza di ratti di grandi dimensioni, odori nauseabondi. Una situazione è sostenibile, la definiscono coloro i quali sono costretti a vivere ormai da mesi in simili condizioni igienico-sanitarie così tanto precarie. A denunciare la situazione di degrado nel quale versa il canile comunale di Barletta è stata la Filcams CGL-BAT che ha inviato una lettera all'associazione che gestisce la struttura, al comune e alla ASL. Abbiamo le fogne che si otturano ininterrottamente, siamo sempre piene e nonostante tutti i giorni chiamiamo l'acquedotto per pulire, per far togliere un po' di liquami, però costantemente stanno sempre, sempre, sempre piene. Loro dicono che è colpa dei peli dei cani, noi diciamo che è colpa delle pompe che non tirano e sono spente, poi non è un compito che aspetta a me vedere il compito di chi è, perché si otturano. Il problema è che io sto da quando è nato il canile, questi problemi non li abbiamo mai avuti. Sono mesi, sono mesi, sono mesi, sono mesi che lavoriamo sempre, si otturano, sturiamo, viene lo spurgo, toglie l'acqua, giorno successivo, dopo due giorni stiamo alle stesse condizioni e non si può vivere a questa maniera. Ci sono ratti quasi più grandi dei cani, oggi hanno preso il sopravvento, cioè sono grandi, quasi quasi ti sfidano. È una cosa micidiale, non si può lavorare e vivere in queste condizioni. Il sindacato chiede agli enti competenti un immediato intervento risolutore, in modo da non pregiudicare la salute dei lavoratori che attualmente operano in condizioni igieniche precarie. Di sistemarlo, di aggiustarlo, quanto prima, cioè è una situazione impossibile, impossibile, cioè non ci sono alternative, bisogna aggiustarlo, punto.